Il lago di Padova-Esta, due passi dalla tangenziali, dal casello autostradale, dai centri commerciali, esiste ufficialmente da 2013. È la conseguenza di un cantiere abbandonato, profondo fino a 12 metri, perfino gradevole. Il degrado però è impressionante. Dopo le segnalazioni dei nostri telespettatori, abbiamo verificato la presenza di immondizie, erbacce, recensioni di velte e l'assurda possibilità di arrivare fino al pelo dell'acqua anche con l'auto. Oggi, a distanza di due mesi dall'ultimo servizio, la situazione è perfino peggiore. Cari amministratori di Padova, è inutile parlare di grandi opere, di cattedrali nel deserto quando non si è in grado di gestire l'ordinaria amministrazione sulla manutenzione. Qui è un bruttissimo biglietto da visita a Padova-Esta. Importante mettere subito in sicurezza, sfalciare l'erba, combattere il degrado. Ci sono tutte le recensioni aperte, le recensioni di velte buttate giù a terra con tutte le immondizie. Qui è un luogo pericoloso dove la gente può entrare e può farsi del male. C'è un laghetto artificiale profondo a alcuni metri, la gente può addirittura negarsi. Qui si vede che è una terra di nessuno. In ballo c'è l'immagine della città. Questa è la principale porta di accesso da Est. Nei paesi europei questo tipo di strutture sono valorizzate. mettono dei fiori, mettono delle agguole. C'è tutta una serie di attività, diciamo così, attorno a queste opere. Per cui questo è veramente un degrado urbano che va a graffiare l'immagine della città di Padova. Va bene la cura del salotto buono della città, verrebbe da dire, ma non dimenticare le periferie, specie se a rischio degrado. Grazie per la cura del salotto.